papà papà per natale mi regali la playstation non ci penso nemmeno perché costa troppo e ti rimbecillisce io voglio la playstation neanche per sogno è fuori discussione papà mi fai vedere netflix certo figliolo cosa vorresti vedere voglio vedere l'avventura di peter pan l'ho visto anch'io da piccolo mi ricordi di che cosa parla è la storia di tre bambini che hanno il papà imbecille cosa ne dici se cambiamo questo per esempio la bella è la bestia è una ragazza col padre pazzo che viene messo in prigione allora cambiamo genere frozen il papà muore in una tempesta in mezzo al mare e quest'altro in computer grafica arlo è la storia di un dinosauro il papà muore all'inizio del film e big hero six i figli sono rimasti orfani ok ok e dumbo cosa ne dici di vedere insieme dumbo il papà di dumbo non esiste nemmeno il re leone è la storia di un leone e per colpa sua suo papà muore scusa figliolo che cos'era che volevi per natale ma com'è che in tutti questi film per bambini i papà fanno sempre una brutta fine non so papà però a me questi film piacciono tanto aspettami qui unisciti a me e insieme potremo governare la galassia come padre e figlio grazie per aver guardato questo cartone animato se volete che ne faccia altri iscrivetevi al canale nicola brusco con il bottone alla vostra sinistra e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti